Se volete acquistare crediti passate da FIFA CoinZone, sono veloci, sicuri e con ottimo prezzo e con il codice coupon GIOVISPO otterrete 3% di sconto, troverete il link qui sotto in descrizione Salve a tutti ragazzi, belle e brutti e miscritti, più di tutti bentornati su GioveH di Spò Io sono Giovispo e questo è il video dell'estrazione del contest del vincitore del contest numero 2 ed ora si chiude il numero 2 e inizia già il numero 3 Al vincitore di questo contest darò 5000 credit Questo contest è particolare perché non vincerà un numero casuale ma bensì quella che sarà, secondo me, la miglior battuta Quella che potrebbe essere la miglior battuta Allora, ho stilato anche oggi una top 5 e iniziamo subito con il numero 5 Al numero 5 abbiamo Randal2427 con Cosa fanno dei carabinieri davanti al PC? Aspettano l'arresto del sistema Al numero 4 abbiamo il vincitore dello scorso contest, ovvero Iaconico123 Inedicola Scusi, c'è oggi? Perché? Non mi vede? Al numero 3 valetrava 28 Se gli esini volassero, la scuola sarebbe un aeroporto Al numero 2 Sam Larazza Questo apparecchio acustico funziona benissimo Di che tipo è? Mezzogiorno e un quarto Ed ora entriamo nel vincitore del contest di questa settimana Ed è... Rullo di tamburi Luca Ibra con Un uomo dice ad un altro Svelto, chiama il 118 Non so il numero Guarda un anaccio telefonico Ebbene ragazzi Questo contest di questa settimana si conclude Oggi stesso inizia l'altro Vedrete a breve le regole Che sono semplicissimi E quindi commentate in tanti Mettete mi piace Spero che questi contest vi piacciono E se non siete iscritti iscrivetevi già Qui ci rispondo Vi saluto e vi ringrazio Ci vediamo alla prossima con un nuovo video Ciao e bello a tutti